L'onda lunga del post referendum e delle dimissioni del Premier Renzi si fa sentire anche in Abruzzo nel capoluogo. La necessità di approvare con voto di fiducia la legge di stabilità infatti apre scenari forse non del tutto inattesi alla vigilia della consultazione referendaria, ma in pochi probabilmente si aspettavano che la situazione potesse precipitare così rapidamente. Con la fiducia alla finanziaria infatti saltano tutti gli emendamenti, come spiegato dalla senatrice Aquilana Pezzopane, legati al post terremoto in Abruzzo. Provvedimenti per gli uffici della ricostruzione fino alle proroghe per i precari dei comuni, la proroga del cococo e soldi per i sottoservizi nei comuni del cratere, per l'equiparazione del salario degli dipendenti degli uffici speciali della ricostruzione. Ma non solo, la senatrice sostiene che con la fiducia salterebbe anche l'emendamento contenente i fondi per i bilanci dei comuni per sopperire alle minori entrate e alle maggiori uscite della ricostruzione post terremoto. Affermazione quest'ultima smentita da Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale. Come spiegano i portavoce del capoluogo Michele Malafoglia e Chiara Mancinelli, un emendamento in tal senso, ovvero con cui destinare fondi e bilanci dei comuni terremotati nel 2009, presentato proprio dalla parlamentare democrat, è stato dichiarato inammissibile nell'ambito della discussione del decreto legge sul sisma del centro Italia. Insomma, se fondi per i comuni non arriveranno, non sarà per colpa del post referendum e della fiducia sulla legge di bilancio e come ribadiscono i due esponenti di Fratelli d'Italia, il governo deve rendere strutturali i contributi per le minori entrate e le maggiori spese, utilizzando una quota delle risorse già disponibili per la ricostruzione e assegnate di volta in volta con le delibere del Cipe, secondo parametri prefissati e non costringere ogni volta i primi cittadini ad andare a Roma con il cappello in mano ad elemosinare ciò che spetterebbe di diritto.